Benvenuti, negli ultimi due anni ci siamo visti davvero molto, che è un buon segno, vuol dire che abbiamo lanciato tante nuove vetture, ci siamo incontrati spesso, sempre a Torino e sempre a casa, in luoghi molto legati al marchio Fiat, molto legati alla sua storia e alla sua identità. E così eccoci qui, come vedete siamo proprio davanti all'ingotto, ma oggi lo vogliamo guardare da un angolo diverso e da una nuova prospettiva, lo guardiamo da un luogo che non parla la lingua dell'auto, starete chiedendo cosa c'entra Italy con noi. Beh vi assicuro che questo luogo ha davvero molti punti in comune con Fiat e soprattutto ha molti punti in comune con 500, allora credo che a questo punto la cosa migliore sia che sia proprio il suo fondatore, il fondatore di Italy, a raccontarceli. Ciao a tutti, sono Oscar Farinetti, vi saluto da Italy e vi ringrazio molto di aver scelto Italy per questo vostro appuntamento. Vi saluto davanti a un Italy con la più bella macchina del mondo, la Fiat 500. Ciao a tutti. Come dice Oscar Farinetti, tra 500 e Italy c'è molto in comune, possiamo parlare davvero di affinità elettive. 500 sta alla cultura dell'auto, come Italy sta a quella del cibo. Sono italiani ma internazionali allo stesso tempo, nati qui a Torino e arrivati un po' ovunque nel mondo. Sono urbani nelle dimensioni ma globali nella visione. Entrambi hanno colorato il grigio delle grandi città, con il piacere di vivere, il buon gusto e lo stile italiano. Sono speciali ma accessibili perché danno a tutti la possibilità di scegliere qualcosa di autentico, qualcosa di unico e di grande qualità. E poi c'è un'altra importante coincidenza, l'anno 2007. Nel 2007 qui a Torino apre il primo Italy e qui, sempre qui a Torino, è rinata 500, era il 4 luglio. Eccola la Fiat 500, è proprio la piccola grande vettura. Era il 4 luglio, ma il 4 luglio del 1957. Dunque 500 quest'anno compie 60 anni. E per celebrarli 500 ha fatto un bellissimo regalo a chi le vuole bene. La 500 sessantesimo, la serie speciale del sessantesimo in una versione limitata e numerata. Sono 560 unità per mercato accompagnate da un certificato di autenticità per un vero e proprio oggetto da collezione che vuole rileggere in chiave moderna i simboli storici della 500 del 1957. Lo vedete qui, c'è il logo Fiat dell'epoca, i baffi e la linea del cofono sono cromati, il tettuccio in tela, una splendida plancia in vinile rosso, poi anche il tipico stile a cannelloni dei sedili e infine c'è anche un altro tocco vintage, la vernice bicolore avorio cappuccino che abbiamo voluto chiamare appunto dolce vita. La 500 dunque del sessantesimo, la 500 del sessantesimo guarda al passato, però attenzione perché su questa vettura l'apparenza inganna. La 500 del sessantesimo sa anche guardare al futuro con quanto di meglio disponibile nel campo della connettività con le tecnologie di CarPlay e Android Auto per essere sempre più connessa, proprio come ci si aspetta da un'icona. Icona è un po' un parolone. Allora proviamo a spiegarlo. Quando un prodotto si può davvero definire un'icona e soprattutto come riesce a rimanere tale nel tempo. Prima di tutto quando questo prodotto è autentico, cioè quando ha radici forti e sa rimanerci attaccato. Secondo, quando è unico, cioè così diverso che non può essere sostituito da nessun altro. E terzo, quando è rilevante, ovvero quando sa interpretare lo spirito del tempo e soprattutto l'evoluzione dei bisogni. E questo con carattere e personalità. Dunque, autenticità, unicità e rilevanza. Così 500 è diventata nel tempo un'icona. E così è diventata Forever Young, cioè un'icona contemporanea che ha saputo rinnovarsi, non passare mai di moda. Un'icona che nel nostro caso ha anche messo su famiglia. Si tratta di un'intera famiglia di prodotti, 500, poi 500L nel 2012 e 500X nel 2014. Una famiglia di successo, lo sapete benissimo. A cominciare da 500, leader di vendita in nove paesi e sul podio in altri sette. Una quota che in dieci anni non ha mai voluto cedere un millimetro di terreno alla concorrenza. Anche 500L è leader nel suo seguimento e da quando è nata. Dal 2012 è stata scelta da oltre 430.000 persone nel mondo. Oggi in Europa è leader con una quota del 25%, che vuol dire che praticamente una vettura su quattro di questa categoria è una 500L e poi 500X. prima in Italia è il crossover che nel 2016 è cresciuto di più nel suo segmento, un altro importante dato, con un tasso di conquista di quasi il 70%, che è il più alto di tutta la gamma Fiat. Nel 2016 la famiglia 500 è andata oltre le 400.000 unità vendute nel mondo. 400.000 in un anno. Su questo voglio fare un commento importante. 500, 500L e 500X sono prodotti ognuno complementare all'altro. Come vedete in questa slide, ogni volta che abbiamo lanciato una nuova 500, i suoi volumi si sono sommati senza togliere niente agli altri già presenti sul mercato. E questo perché? Semplicemente perché ogni prodotto della famiglia ha un suo target cliente molto chiaro. La 500 è l'auto urbana per eccellenza, per chi vuole stile e mobilità. La 500L è la scelta delle giovani famiglie che non vogliono rinunciare a guidare una 500 per il solo fatto di essere diventate un po' più grandi e la 500X è semplicemente il crossover tutto italiano. Dunque, autenticità, unicità e rilevanza. Questi sono gli ingredienti della storia di famiglia che oggi vi raccontiamo. Una storia di famiglia basata da sempre sulla capacità di guardare al mondo da un punto di vista diverso. Signore e signori, ecco a voi la nuova 500L, anzi le nuove 500L. La nuova 500L nasce dai punti di forza della precedente, nasce dalla sua ricetta originale. utile, ma non per forza noiosa, pratica, ma anche bella e divertente. Insomma, in fondo è una 500 con tanto spazio. I nostri clienti ci dicono che la dimensione ideale per la prima auto di famiglia è 4,20 metri. Beh, la 500L è lunga esattamente 4,24 metri. Quindi ideale per muoversi nel traffico e trovare un parcheggio, ma allo stesso tempo anche per viaggiare e andare in vacanza con tutta la famiglia. Poi però, quando entri dentro, è proprio dentro che 500L diventa veramente grande, con la migliore capacità di carico del segmento, un enorme tetto vetrato, più visibilità posteriore grazie ai vetri a nastro, più visibilità anteriore grazie al montante A vetrato, e più visibilità per i passeggeri grazie alla fila posteriore rialzata, un po' tipo quando andiamo al cinema. Questi sono da sempre i suoi punti di forza. Ora, oltre a questo, cosa c'è di nuovo in 500L? Primo, c'è ancora più stile. Secondo, c'è ancora più carattere. E terzo, c'è ancora più tecnologia. Quindi stile prima di tutto. Abbiamo voluto una 500L ancora più 500. Si nota moltissimo già dal primo sguardo, lo vedete, grazie a un frontale è praticamente tutto nuovo. E tutti nuovi sono anche gli interni, volante, plancia, quadro strumenti, console centrale, sistema di infotainment. Dentro è davvero tutto nuovo. In pratica abbiamo accentuato ancora di più lo stile di famiglia che è stato poi uno dei motivi principali del suo successo. Primo stile, secondo carattere. Perché? Perché il mercato cambia, il mercato si evolve e quindi alla nuova 500L abbiamo aggiunto ancora qualcosa in più. Le abbiamo voluto dare un nuovo posizionamento. Voi lo sapete molto bene, oggi la parola magica nel mercato è crossover. In tutti i segmenti di mercato si vede molto chiaramente una migrazione dalle forme più tradizionali a quelle più crossover. Dunque crossover e SUV crescono in tutti i segmenti, quelli piccoli, quelli medi e quelli grandi. Di fatto già oggi una 500L su quattro è una tracking. E questo perché? Perché chi l'ha comprata, chi l'ha comprata all'inizio aveva in mente un crossover, cercava stile ed emozioni, ma poi ci ha un po' ripensato perché in più aveva anche bisogno di tanto spazio e funzionalità. Vedete qui cosa abbiamo fatto noi, abbiamo preso la nostra tracking, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo migliorata, l'abbiamo fatta diventare ancora di più crossover. Un crossover con tanto spazio. E così è nata la nuova 500L Cross. Nuovo anche il nome per l'auto che ha il compito di attraversare i segmenti e di andare alla conquista di nuovi territori e di nuovi clienti. Primo stile, secondo carattere, terzo tecnologia. Guardate. Dicono che la tecnologia sia solo per i più giovani, invece no, dico io. La tecnologia non è come la matematica, che non la capisce nessuno. La tecnologia deve essere facile, così la possono usare tutti, anche le persone più vecchie, tipo quelli che hanno 30 anni. Questo è quello che io chiamo DEMOCRAZIA! Questo è un video della campagna di comunicazione della nuova 500L, perché per una 500L nuova ci voleva un punto di vista nuovo e dunque chi meglio dei bambini si sa aprire a nuove prospettive, soprattutto se sono nati già grandi, un po' proprio come la nostra 500L. E come dice Luca, che è il nostro piccolo grande amico del video, la tecnologia deve essere facile, così la possono usare tutti. Per questo la nuova 500L ha nuovi schermi touch da 7 pollici, con tecnologia capacitiva per dare in pratica è semplicemente la sensazione di usare un vero tablet per ospitare la telecamera posteriore e per essere sempre connessi con il mondo attorno a noi. E poi essere connessi oggi è importante, è davvero molto importante, ce lo dicono proprio le nuove generazioni. Pensate in grande, ci sono tante persone nel mondo, più di 100. C'è sempre qualcuno che deve ancora imparare. Secondo me, tutti devono poter comunicare liberamente. La connettività è un'altra delle aree su cui abbiamo investito per la nuova 500L. Il sistema di infotainment, Uconnect, da oggi diventa anche integrato con CarPlay e compatibile con Android Auto, permettendo a chi guida di utilizzare le applicazioni del proprio smartphone direttamente dallo schermo 7 pollici. Io non sono proprio un nativo digitale, di fatto anche un po' più di 30 anni, quindi per adesso mi fermo qui, anzi, visto che la nuova 500L è pensata per dare spazio alle nuove generazioni, lascio la parola ai ragazzi del Centro Stile che l'hanno disegnata. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Con 500 abbiamo creato uno stile fresco, spontaneo, irriverente, che include e mette d'accordo un po' tutti. un piccolo universo che è nato da un'intuizione di prodotto e di design e che poi è diventato un modo di vivere l'auto. Ma come si può far evolvere un mondo così naturalmente equilibrato? Per capire come abbiamo lavorato sullo stile del 500 possiamo pensare un po' alla famiglia 500 come a un giardino all'italiana, se vogliamo, dove ogni pianta va curata come un individuo ma al tempo stesso anche come parte di un insieme con una sua identità con un suo stile. Per migliorare 500L quindi abbiamo lavorato sui particolari perché volevamo rinnovare il nostro giardino ma senza cambiare l'essenza della sua natura. E quindi abbiamo anche fatto piccoli innesti per dare all'insieme una personalità sempre più armonica. L'intervento su 500L ci ha portati a reinterpretare gli stilemi della famiglia 500 quindi in una maniera più espressiva più coerente ma al tempo stesso abbiamo accentuato le due diverse anime che lo contraddistinguono. Possiamo vedere quindi lo spirito urbano quello di 500L e di 500L wagon che sono le sorelle grandi se vogliamo della 500 e lo spirito più crossover che avvicina un po' la 500L cross alla 500X alla sorella grande. Quindi attraverso questi innesti abbiamo reso la 500L ancora più 500 di prima. Sul frontale poi possiamo vedere per esempio il nuovo musetto il nuovo naso sul musetto che noi alla fine chiamiamo al centro stile Omega con i nuovi baffi più sottili più slanciati e i nuovi proiettori bassi con funzione di abbagliante e luci diurne a led che sono un po' la firma della nostra gamma se vogliamo che rappresentano la doppia palpebra che rende la vettura così riconoscibile anche di notte. Inoltre abbiamo dato alla 500L lo stesso sorriso smagliante di 500 aggiungendo dei riporti cromati che sottolineano appunto la presa d'aria inferiore e abbiamo aggiunto anche un chrome bar che ricorda un po' il paraurti in alluminio della 500 storica. Tutte queste linee orizzontali poi spingono verso l'esterno della vettura e la rendono quindi visivamente più larga più attaccata a terra e così la 500L che poi è un'auto è la prima auto di casa adesso ne acquista anche l'immagine. La 500L Cross invece assomiglia di più alla 500X si ispira di più alla 500X la più crossover della famiglia e sul frontale quindi oltre alla nuova Omega e i baffi e il proiettore basso possiamo notare una griglia specifica una griglia più tecnica più robusta e nella zona inferiore possiamo notare il nuovo bull bar ora integrato anche all'interno dello skip plate che con questa soluzione abbiamo dato maggior senso di larghezza e di robustezza. sul laterale poi abbiamo anche novità troviamo le fasce in tinta vettura con riporti in abbinato all'anteriore e al posteriore e che sono un po' i tratti stilistici che caratterizzano tutta la nuova gamma di 500L e di 500L Cross anche poi sul posteriore abbiamo il nuovo paraurto con le grafiche a uscire che dà alla vettura ancora più sensazione di presenza e di valore quindi grazie anche qui ai nuovi riporti in body color nel caso della Cross poi possiamo notare il nuovo skip plate nella zona inferiore del paraurto quindi ora la size impression della 500L è decisamente di un segmento superiore di una classe superiore e in generale possiamo notare che la 500L l'aspetto della 500L ora è cambiato c'è più ricchezza di particolari c'è un family feeling più stretto con le sorelle della gamma 500 e abbiamo ancora di più accentuato la sua personalità da alto di gamma che viene quindi scelta anche perché è alla fine l'unica auto emozionale in un segmento funzionale quindi abbiamo reso la 500 ancora più 500L e ancora più premium grazie buongiorno a tutti la stessa cura per i dettagli si vede anche all'interno quindi siamo partiti dalla luce abbiamo cambiato il colore dell'illuminazione notturna quindi dall'ambra siamo passati al bianco per i nuovi display i tasti e i vani dell'abitacolo l'effetto è molto più rilassante molto più moderno abbiamo creato i tre punti luce per l'illuminazione del vano anteriore del mobiletto e delle tasche dei pannelli porta cioè proprio dove mettiamo il telefono gli occhiali e altre cose ancora la 500L è dentro un'auto molto grande e abbiamo dato più spazio alla tecnologia quindi ingrandendo i display di bordo il sistema dell'infotainment si comanda con un touchscreen di 7 pollici ben accessibile anche dal passeggero gli strumenti sono contenuti in tre grandi quadranti principali simili a 500X con al centro un display TFT che mostra a colori tutte le funzionalità gestite dai comandi del volante le ampie superfici dei quadranti ci hanno dato l'opportunità di impreziosire i particolari le tacchettine del quadro sono disegnate come quelli degli orologi di pregio quindi escono dallo sfondo con un effetto 3D molto gradevole ma facciamo un passo indietro vediamo come abbiamo ridisegnato gli interni per creare un ambiente ancora più tecnologico e più elegante quello che vedete in questo momento è la plancia dell'attuale 500L con la strumentazione rinchiusa in una cornice unica in centro stile Fiat questa cornice la chiamavamo la chitarra bene abbiamo deciso di rompere questa chitarra e in questo modo abbiamo reso la plancia più pulita ed essenziale abbiamo ricavato lo spazio per nuovi display e abbiamo aggiunto un iconico cupolino come la 500X per rinfatizzare l'effetto bicolore della plancia l'ergonomia è migliorata anche grazie al nuovo volante che è più sportivo dotato di comandi infotainment integrati e un cover bag più piccolo che consente una migliore visibilità degli strumenti il tema fondamentale della 500L è la massima fruibilità dello spazio quindi abbiamo lavorato per migliorarla ancora soprattutto nella zona del mobiletto che è stato completamente ridisegnato introducendo modifiche ergonomiche come il cambio più in alto e i comandi clima in una posizione migliore modifiche anche modifiche funzionali come il vano aggiorno sotto la presa USB i due cup holders a fianco del nuovo cambio freno a mano e l'ampio vano che si trova tra i due sedili anteriori con o senza bracciolo su questi interni rinnovati abbiamo messo la nostra firma quindi sulla mostrina che avvolge il cambio e in alto a destra sulla fascia della plancia come vedete gli interni della famiglia 500 hanno un'identità comune chiarissima con temi ricorrenti come le forme arrotondate simbolo della 500 nello stesso tempo sono specializzati per modello quindi la plancia della 500 è disinvolta e divertente la 500X è solida e sportiva e la 500L è ben organizzata e tecnologica abbiamo creato uno spazio ancora più bello più fruibile più moderno ma soprattutto ancora più 500 quindi la nuova 500L si presenta non solo come un'auto per la famiglia ma anche come un'auto della nostra famiglia la famiglia 500 grazie a tutti grazie 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 ragazzi grazie davvero perché ci avete dimostrato con i fatti che dietro la 500L c'è stato un importante esercizio di stile ma che c'è anche tanta sostanza infatti il 40% dei componenti è totalmente nuovo abbiamo parlato tutti di una vera prima vettura adatta per tutti i giorni come prima auto ideale per la famiglia e allora è arrivato il momento per fare un focus specifico sulla sicurezza ho una visione chiara sulla sicurezza bisogna sempre stare attenti nel mondo che mente le macchine hanno i superpoteri si fermano al momento giusto e salvano anche delle vite e non fate il bagno dopo mangiato dunque 500L ha i superpoteri e in fondo è un po' vero perché dispone di autonomous city brake ovvero il sistema che a bassa velocità vede i veicoli davanti e se serve sa frenare automaticamente insomma è sicura in città ma sicura anche durante i weekend con la versione cross tutti mi chiedono come vedi il futuro non è importante dove stiamo andando quello che conta è la strada vivi ogni momento non chiederti quanto dura il viaggio sì ma quando arriviamo bella domanda quando arriviamo? quello che conta è la strada dice Luca soprattutto aggiungo io sei a bordo il nuovo mode selector che aiuta a risolvere inconvenienti come un ostacolo improvviso come una ruota che slitta in un parcheggio sulla neve per una partenza su fondi con scarsa aderenza per un terreno sconnesso basta in questi casi spostare il selettore nella posizione traction plus per gestire meglio la coppia tra le ruote anteriori e se ci trovassimo ad affrontare una discesa su un fondo scivoloso anche in questo caso nessun problema basta spostare il selettore nella modalità gravity control e la vettura sa scendere da sola a velocità costante e sicura e ancora per quelli che hanno scelto di avere una famiglia veramente numerosa per quelli con mille interessi che amano condividere la propria famiglia con gli amici figli parenti e compagni di avventure beh per tutti questi ci vuole proprio un'auto extra ordinaria sapete una cosa a me piace avere tanto spazio così posso invitare tutti i miei amici a fare merenda giocare insieme e cambiare il mondo qui sono tutti benvenuti anche le femmine ma quelli della prima B no quelli della prima B no sulla nuova 500L Wagon invece sono tutti benvenuti ma veramente tutti e tutto è l'unica ad avere sette posti in 4 metri e 38 centimetri è la sette posti più compatta del mercato con oltre 1500 diverse configurazioni di interni sedili lato passeggero abbattibili per portare oggetti lunghi oltre 2 metri e mezzo sedili posteriore sdoppiabili per lasciare spazio alle gambe di tutti più o meno alti e anche i loro bagagli con un baule di 638 litri senza la terza fila e sedili a tavolino per poter lavorare o per poter giocare quindi abbiamo tre anime per tre diversi tipi di utilizzo la 500L la 500L Cross e la 500L Wagon urbana extraurbana e extraordinaria una gamma completa che verrà offerta con gli allestimenti Popstar Business and Lounge e con una sola versione molto semplice e molto ricca per la 500L Cross questi allestimenti si abbinano a un'offerta completa di motori abbiamo quattro diverse alimentazioni benzina diesel turbo GPL e turbo metano con un cambio manuale o automatico dual logic bene a questo punto della nuova 500L mi sembra abbiamo detto proprio tutto perlomeno vi abbiamo raccontato tutte le cose che sono cambiate non abbiamo però ancora parlato del prezzo perché c'è una ragione perché il prezzo non è cambiato e infatti 500L verrà offerta praticamente allo stesso prezzo della versione attuale per esempio in Italia l'offerta di lancio è di 15.900 euro che diventano 14.900 con il finanziamento meno mille per una versione già completa di tutto con luci diurne a led radio you connect touch screen clima e cruise control il lancio commerciale inizia ufficialmente oggi con l'apertura degli ordini che verrà seguita dai porti aperte nelle nostre concessionarie europee come tradizione come sempre il primo paese a lanciare è l'Italia con il porte aperte di sabato 17 e domenica 18 giugno questo scrivetelo bene per favore subito dopo seguiranno Francia Belgio Germania Spagna Svizzera Olanda e tutti gli altri mercati europei e poi a settembre arriverà anche la guida a destra bene ora 500L è davvero pronta per il suo nuovo viaggio che è un viaggio verso il futuro tutti parlano del futuro ma io so come sarà chi è davanti guiderà chi è indietro tutti avranno lo stesso spazio ma non i dinosauri quelli sono troppo grandi ma sapete cosa sogno davvero? un cane è quello che sogno veramente veramente prima di chiudere ancora una piccola sorpresa Luca vieni qui con noi ciao a tutti ciao come va? bene quanti anni hai? sei ti sei divertito? sì risposta giustissima perfetta e così ci piace guardare al futuro ci piace guardarlo con gli occhi dei bambini e quindi con la prospettiva di chi oggi è seduto dietro ma che domani guiderà il nostro posto ci piace tornare alle origini per guardare avanti ci piace ritrovare la semplicità la semplicità dei grandi sogni i sogni in cui c'è tanto spazio spazio per tante emozioni e anche una nuova 500L per contenerle tutte grazie grazie davvero sapete cosa sogno davvero? un cane è quello che sogno veramente veramente scusà cos'è che hai detto? jingle bell jingle bell cap camera doraemon doraemon il gatto spaziale la lumaca elisabetta va bene? quale è il cibo preferito di Luca mi chiede la ricetta la ricotta io c'ho la pagherta da 100 ma si può avere una pizza senza lavorare? come ti chiami? sei molto carina doraemon doraemon mi chiami? doraemon doraemon Grazie a tutti.